Un grande altro tema di giornata è l'arresto di quel delinquente, perché questo è, di Tugliani. Tugliani è il fratello della moglie di Gianfranco Fini, quello che si comprò fittiziamente l'appartamento di Monte Carlo, di cui il giornale parlò per anni. Oggi l'unico pezzo che vale la pena di leggere è quello di Gianmarco Chiocci, che all'epoca, nel 2010, era cronista giudiziario del giornale e che ci racconta quando lui, Chiocci, fu arrestato e fermato dalla polizia monegasca perché questo delinquente arrogante di Tugliani lo fece bloccare e arrestare dalla polizia che lo bloccò per un giorno intero per chiedergli perché si permetteva di disturbare questa personalità così importante a Monte Carlo, cosa che lui ovviamente stava soltanto cercando di capire e indagare sul motivo per il quale una casa donata da Enne, da una sua estimatrice di movimento sociale, fosse poi finita nelle mani di questo cafone delinquente che poi era il fratello della moglie, cafona di Fini, perché tutto si può dire tranne che non sia una gran cafona la moglie di Fini, e in questo giro di cafonaggine romana in realtà tutto andava bene se non il prezzo che fu pagato, 330 mila euro la vendita di questo locale a Monte Carlo contro il milione e mezzo che valeva. Chiaro? Il giornale quando faceva questa campagna con feltri, sallusti e chiocci e anche per la verità tante altre persone all'interno del giornale, Alpica per esempio, noi fummo riempiti di merda. Avete presente? La macchina del fango era il giornale, faceva schifo, non venivamo salutati, io mi ricordo quel comunistello là che spero che non sia candidato in Sicilia, come si chiama quel comunistello? La Granata, una trasmissione televisiva, come si fa? Gli strinsi la mano, provai a stringergli la mano e dice io a te manco leva la mano, mi disse Granata, quel fascistello siciliano Bien Plassé che era dell'amicizia di Fini. Mi ricordo Filippo Rossi che mi considerava una merda, ci consideravano tutti delle merda perché loro difendevano la famiglia Tulliani, Fini, questi erano degli affaristi da quattro soldi, da quattro soldi, come si sono rivelati tali, ma siccome l'inchiesta era fatta il giornale non era accettabile quello che scrivevamo. Beh, guarda, l'idea che lui sia stato arrestato perché ha denunciato un giornalista come Chiocci in Sicilia, negli Emirati Arabi e sia almeno per un paio di giorni in galera e poi non verrà estradato, c'è da scommetterci la mano, io spero che venga estradato e che marcisca in galera perché veramente si tratta di quel generone romano, affarista che un po' di galera tocca che se la faccia, ecco, insomma, quello che è giusto, quello che è giusto, non la fanno sempre franca questi truffatori da quattro soldi, ma detto questo, affari d'oro a un certo punto, l'accordo di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti non c'è e quindi probabilmente rimarrà là. Il fatto fa una copertina fantastica perché racconta dell'inchiesta che ha fatto, di un il sondaggio d'opinione che ha fatto i PR sui suoi lettori e ha scoperto quello che piace ai lettori del fatto e loro si adegueranno. Mi ricorda tanto la vendita del fustino di Dixanne e di Berlusconi, il metodo è sempre quello, cioè cosa volete noi ve lo diamo. Bravo, bravissimo, Travaglio, il marketing serve a questo. Mi diverte molto che il giornale, diciamo, anti-berlusconiano per eccellenza utilizzi il metodo di Berlusconiani per capire come vendere il proprio giornale, è fantastico. Per il resto il fondo di Travaglio, che cosa volete che sia, è la difesa come sempre di un rappresentante del Movimento 5 Stelle, in questo caso dell'Appendino, sono due giorni che ci sbomballa le balle, io lo leggo perché mi diverte e poi comunque Travaglio scrive bene la difesa dell'Appendino ma soprattutto l'attacco nei confronti dei giornali che attaccano l'Appendino, quindi non si può mai toccare uno del Movimento 5 Stelle. Travaglio è uno che dice che noi sguazziamo nella merda, come ha scritto di me, ha detto che sono compari, amichetti, mafiosi, trattamani tutti quanti, ma se qualche giornale si permette di attaccare uno dei suoi protetti, l'Appendino, la Raggi, lui che cosa dice? Con tutto il casino che avviene nel mondo vi occupate proprio di attaccare l'Appendino? Eh sì, ci occupiamo di attaccare l'Appendino, con lo stesso criterio ci siamo occupati di attaccare Tugliani, con lo stesso criterio ci siamo occupati di criticare tante altre persone, ognuno si occupi del proprio mirino, la stampa libera è proprio questo, tutti occupi di Dell'Utri, di Berlusconi e di noi non occupiamo. Diciamo così, l'altra cosa straordinaria di oggi, c'è un colonnino sul Corriere della Sera, tutti si occupano di questa commissione delle banche e del fatto che Renzi ieri si sia visto con Casini e anche di un fatto che mi sembra molto più importante rispetto all'incontro tra Renzi e Casini che è pur sempre segretario del Partito Democratico, cioè del partito oggi in Parlamento con la maggioranza, speriamo domani non sia così, ma comunque sia, quello che vi dico è che si sono incontrati e chi se ne frega se si incontrano Renzi e Casini, tanto quella commissione è sotto gli occhi dell'attenzione di tutti quanti noi, ma la cosa straordinaria è che la commissione finisce come tutti sapevamo con la fine della legislatura e non continuerà durante la campagna elettorale, il che vuol dire che la commissione potrà lavorare solo fino a fine dicembre, immaginate voi una commissione parlamentare di inchiesta sulle banche che in quattro mesi secondo loro stabilisce la verità sul crack bancario italiano con un governatore della Banca d'Italia criticato dalla stessa commissione della Consob che però il governo stesso ha rinnovato per i prossimi sei anni, è una farsa questa commissione delle banche, non c'era bisogno dell'incontro di Renzi con Casini, suo presidente, presidente della commissione delle banche è Casini e allora non c'era bisogno di questa roba qua, stasera Elisabetta Matrix inizia alle 23.30, sempre in seconda serata, ma l'altra cosa divertente è che uno dei commissari di questa commissione delle banche si chiama Villarosa, oggi sul Corriere della Sera si difende, dice io ho avuto un problema, siete tutti quanti ridicoli che mi attaccate, il solito come difesa del Movimento 5 Stelle perché questo Villarosa è un commissario di 5 Stelle il cui fratello era presidente di una finanziaria che si chiama Idea Finanziaria che sostanzialmente mi sembra che sia saltata e lui stesso Villarosa, attuale commissario, è uno dei pochi grillini che aveva un lavoro prima di fare il parlamentare perché era dipendente di questa finanziaria del fratello e guadagnava 1100 euro al mese come dipendente di Idea Finanziaria, che Idea Finanziaria fu messa sotto attacco proprio dalla Banca d'Italia per usura, riciclaggio, per cose tremende che poi non so neanche se siano finite in usura e riciclaggio, probabilmente sono stati tutti assolti, allora se questo, toglieteci un attimo Villarosa, Movimento 5 Stelle, ma se essere lì membro della commissione fosse stato uno del Partito Democratico o di Forza Italia, dei 5 Stelle cosa avrebbero fatto, porca puttana, non avrebbero esagerato dicendo qualsiasi cosa, cosa stanno facendo quelli del Movimento 5 Stelle nei confronti di Bonifazzi, amico di Renzi e della Boschi nella commissione, dicono sei amico della Boschi, non puoi stare nella commissione visto che il papà della Boschi era vicepresidente della banca Etruria, benissimo, ma perché vale solo per loro e mai per il Movimento 5 Stelle? Loro possono fare tutto quello che vogliono, tutto quello che vuole può fare Antonello Montante che fece con Emma Marcegaglia, fu uno di quelli che, come si dice, soffiarono sul fuoco della questione Marcegaglia che mi riguardò, me la ricordo bene, la purezza del delegato, pensate voi, Montante, amichetto della Marcegaglia, aveva l'ufficio accanto alla sua, ma è responsabile della legalità prima della Sicilia e poi della Confindustria, se non che la procura di Catania lo aveva indagato per mafia, così come la procura di Caltanisetta, poi erano state trovate delle sue foto con un boss mafioso, poi erano state trovate delle foto di lui, 17enne, che si sposa, i cui due testimoni padrini al matrimonio erano due boss mafiosi, il responsabile della legalità, quello che attaccò me con Woodcock e la Marcegaglia, cioè questo è Montante, va bene, indagato, magari innocente, sicuramente sono stati padrini del suo matrimonio, ma lui non c'entra nulla con la mafia, sono sicuro al 100% che Montante con la mafia non c'entra nulla, oggi me lo trovo intervistato al Corriere della Sera perché è ritornato presidente dell'ECMA, cioè dell'Associazione delle Due Ruote, lui ha un'aziendina, una cosa piccola che è diventata grande soltanto a tutto esamediatico, ma è una piccola azienda siciliana che si occupa di biciclette e Montante oggi pontifica sul Corriere della Sera senza che nessuno gli ricordi il suo passato, questo è il mondo, il Movimento 5 Stelle non ha importanza, se aveva i parenti in una società finanziaria, Montante delegato alla legalità, non ha problemi se gli trovano a casa un dossier contro i magistrati, lo indagano a Catania, ci siamo dimenticati tutti, la commissione banche finisce a dicembre ma tanto abbiamo il nostro governatore e oggi si vota in Sicilia, vi chiederete come mai un siciliano su due non vota? Ecco, basta leggere un po' questi giornali e questa idea ipocrita della nostra realtà per mettersi tutti d'accordo alle 11 e mezza, spero di mettere tutti d'accordo voi su Matrix questa sera a Canale 5, speciale Elezioni Sociali. Ciao siciliane, ciao! Ciao a Tulliani!